Bentornati sul canale non aperte questo blog, io sono il Gons e oggi siamo qua a parlare di Climax Climax è l'ultimo film di Gaspar Noé, regista di Love, Irreversible, Enter the Void è stato presentato alla 71esima edizione del Festival di Cannes e arriva nelle sale italiane il 13 giugno ho avuto l'occasione di vederlo in anteprima stampa e ora ve ne parlo un attimo Climax racconta la storia di una compagnia di ballerini che stanno preparando uno spettacolo che si ritrovano in un vecchio edificio abbandonato diciamo per fare le prove finali del loro spettacolo siamo intorno alla prima metà degli anni 90 la musica è determinante in questo film e lo è anche la danza ma continuiamo un attimo con la storia questi ballerini guidati da una bellissima coreografa interpretata da Sophie Boutel dopo le prove decidono di fare una sorta di party per festeggiare insomma il duro lavoro ovviamente mettono sulla musica la musica sarà tutta anni 90 con pezzi veramente molto conosciuti molto famosi a un certo punto si scoprirà che all'interno della sangria insomma la bevanda che è stata preparata per la festa alcolica c'è finito qualcosa una sorta di droga lisergica psicotropa che piano piano li manderà fuori di testa a tutti quanti questo evento li porterà la musica ha delle azioni davvero tremende e angoscianti e ci saranno delle conseguenze la musica è sono i pezzi più famosi tra i pezzi più famosi della musica anni 90 parliamo di Affects Twin, Daft Punk, Cerrone, Super Nature è proprio la canzone che accompagna anche un po' tutto il film quindi sono tutti pezzi molto famosi il motivo per cui sono stati scelti pezzi così famosi è perché si voleva fare in modo che il pubblico si sentisse immerso nell'epoca storica di questo film quindi negli anni 90 per aiutare diciamo questa immersione sono state scelte delle canzoni molto conosciute tenete presente che siamo negli anni 90 non esiste internet o comunque non è accessibile al popolo e non ci sono i cellulari la festa inizia a degenerare non vi spoilererò il film però vi racconterò un po' quello che ho provato innanzitutto il film parte con una carrellata di autopresentazione diciamo mostra il casting dei ballerini il casting che hanno fatto i ballerini per essere presi da questa coreografa e quindi diciamo che furbamente si riesce a fare una carrellata molto veloce di quelli che sono tutti i personaggi le differenze, il carattere, le ambizioni di questi ballerini una volta presentati tutti i personaggi verremo tuffati in questo edificio e partirà una bellissima coreografia che poi è quella che i ballerini stanno mettendo in scena insomma stanno cercando di mettere in scena, di provare veramente una cosa strabiliante per gli occhi, esaltante musicalmente, davvero uno spettacolo strepitoso una volta finito inizierà la festa danzante dei ballerini, si divertiranno, berranno, c'è chi berrà c'è chi non berrà ci sono dei meccanismi in questo film che lo fanno sembrare quasi una specie di documentario perché i ballerini si muovono con movenze, con richiami a balli tribali insomma questi balli tribali che si trasformano con anche dei cambi di inquadrature dall'alto in immagini quasi frattali che richiamano le immagini frattali di cui troviamo degli esempi anche in natura fino a un certo punto il film serve a farti entrare nell'atmosfera, a caricarti c'è una forte quantità di danza, sia prima quella coreografata, poi quella più naturale, esplicita, interiore dove i ballerini hanno potuto comunque ballare liberamente e mostrare ognuno le proprie emozioni io credo che la danza abbia un potere ipnotico coinvolgente fortissimo riesce a catturarti in un modo per cui ad un certo punto sei dentro con loro sei dentro a questa danza e come in una specie di pogo vieni spinto e sei parte di tutto questo balletto adesso scusate se mi muovo, è per darvi l'idea sei dentro con loro, li urti quasi, senti il loro sudore addosso e poi succede qualcosa, si scopre che tutti iniziano ad accusare un po' di giramenti si sentono strani, si scopre che qualcuno ha messo qualcosa nella sangria qualcosa di lisergico che insomma ti fa perdere il controllo inizierà ad esserci un po' di panico, verranno accusati alcuni che non hanno bevuto e ci sarà un gran casino da quel momento in poi inizia a salirmi un'ansia incredibile per quello che sta per succedere perché è assurdo, è assurdo che possa succedere qualcosa di brutto e tu lo sai perché sei lì a vedere il film sai che sta per succedere qualcosa di brutto per una cosa del genere, l'occhio tuo e dello spettatore noi vediamo tutta questa scena, tutto questo avvenimento impotenti come se fossimo fantasmi eterei in mezzo a loro non possiamo intervenire, noi non siamo sotto effetto di droghe Gaspar Noé non fa nessun tipo di effetto per farci capire cosa provano loro noi siamo i classici sobri alla festa degli ubriachi quindi tutto ci pare abbastanza irrazionale e spaventoso ci sono delle dinamiche che non vi posso dire per non spoilerare il film ma vi dirò una cosa, è un film sicuramente molto angosciante molto disturbante ma esteticamente meraviglioso, stupendo una roba da lasciar via bocca aperta c'è purtroppo anche un bambino in questa situazione, in questa vicenda non vi dico altro sulla storia, è un film che mette in campo tutta la sua abilità nel cercare di toccare i punti più deboli della psiche di un uomo c'è dell'astuzia nel provare a vedere cosa succede al cervello umano quando viene stimolato, prima ad aver paura, poi ad avere angoscia poi ad essere eccitato è molto, non so come dire, imbarazzante quasi sentirsi in qualche maniera attratti da una scena magari erotica dopo aver visto scene angoscianti e tristi questo ti fa capire quanto il cervello stimolato nel modo giusto può passare da un'emozione all'altra in un batter d'occhio questo mi ha scosso tantissimo in più io ho un figlio della stessa età del protagonista del film c'è stato un momento che volevo uscire dalla sala volevo scappare via e ce l'ho fatta, sono rimasto e che vi devo dire questo è un film che ti psicoanalizza ti costringe a provare delle emozioni che nella vita non vuoi mai provare anzi, di solito ci droghiamo o beviamo o facciamo qualsiasi altra cosa per riuscire a anestetizzare certi tipi di emozioni brutte come l'angoscia, il dolore, la tristezza io amo questo cinema credo che per quanto sia completamente diverso Cronenberg e tanti altri registi come la Svontria giochino più o meno sullo stesso campo di Gaspar Noé cioè quello di fare film non che ti facciano stare bene ti facciano sentire bene non film accomodanti diciamo Climax è un film che scuote l'anima meraviglioso insomma Climax è un film bello come una rosa ma che punge punge e fa male bello come una rosa bello come una rosa grazie a tutti